ciao ragazze e ragazze oggi mi sono arrivati i prodotti di chicco la nuova collezione primaverile in questa bustina se acquistate tre prodotti nella nuova collezione appunto vi daranno in omaggio questa pochette vi mostro quello che ho acquistato i tre prodotti sono tutti fruttati questa qua è il blush che è il numero 03 è un'arancia hanno dei packaging molto carini le avrete già visti perché quest'anno sono arrivata tardi e questo è il blush molto luminoso un profumo tutti i dite vede vero dall'asta al limone e in effetti il profumo che emane è questo ma perché sa proprio d'arancia forte e da questo qua io preso più scuro è lo 03 ed è quello che ho indossato con anche il blush che non ho acquistato un blush mio comunque questo a me piace tantissimo guardate non c'è lo specchietto quindi posso farlo vedere tranquillamente ed è così troppo carino poi ho acquistato una palettina che è un kiwi me ne immaginavo un po più grandi dai video poi quando sono arrivate ho vista piccola ma molto scrivente guardate ha dei colori meravigliosi questa è la 02 ce ne sono altre due tre palettine allora ho preso questa perché mi intripa questo colore qua che è questo che ho indossato spero lo vediate è bello forte questa magari questa luce lo rende meno lo sguoccio un attimo è trascrivente ed è ultra forte molto bello è principalmente l'ho preso per quello anche se sul sito mai si vedeva benissimo però ho visto tanti tutorial me ne sono fatta un'idea poi ci sono questi che sono simili ma non uguali molto illuminanti anche questo sono delle andate quanto è bello sono proprio carini cioè molto scriventi magari questa luce non lo rende non rende giustizia però vi garantisco che questo kiwi è bello scrivente io di questo non sento alcuna profumazione poi ho preso un rossetto perché non poteva e questo no vi faccio vedere packaging perché troppo forte se non da fastidio la luce vedete ci sono tutti i semini questo lo 01 ed è questo che indosso è molto carino già sporcato è di una cremosità esagerata cioè buonissimo secondo me il profumo è un po particolare non so ne chiedo scrivere però penso d'anguria niente questi sono stati i miei i miei trucchini poi vi mostro il blast che utilizzato oggi ed è questo della milani l'illuminante di charlotte e burie è fatto così è molto bello e devo dire lo vedete si si vede è bello illuminante poi sugli occhi qui ho messo il grigio e la matita nera è questo di nabla che praticamente è un pennarello cioè non è penarello è quello lì poi ho messo come top coat di natasha delona nei micro glitterini perché questo qua è top coat non è cioè si può utilizzare anche se uno vuole per carità se lo vuole utilizzare per come ombretto ma è poco 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 visibile è giusto il cantino che illumina è un top coat insomma è perfetto secondo me per illuminare il giusto senza esagerare coi brillantini se uno oggi non ero da brillantini super e quindi ho tolto per cambiare niente poi ho messo come matita sempre di nabla la 04 e nulla il correttore è questo di charlotte che dire questo è tutto mi saluto è fatemi sapere se voi avete acquistato qualcosa di chicco che cosa magari un bacione ciao a dimenticavo questa qua me l'ha fatta mia figlia ciao